Ben trovati in una intervista che ha rilasciato a me per prima pagina. Gianluca Pesta, il contestatore per Antonio Masi all'interno del PD, l'antisindaco di Avellino per eccellenza, ha detto una cosa che mi ha molto fatto riflettere, una cosa che credo sia fondata. Ha detto che tra le elezioni politiche, presumibilmente a febbraio dell'anno prossimo, se non accadranno sconvolgimenti prima, e le amministrative del capoluogo, in questo anno Avellino si può giocare tutto, Avellino e Irpinia si possono giocare tutto, nel senso che qui può cambiare tutto oppure può restare tutto com'è. Ora, ciascuno di noi sa, ha un'opinione di come siamo messi e quindi sa anche se sia un bene o meno restare così come siamo. La mia personale opinione, che non oggi per la verità, è che siamo messi molto male, è che l'unica speranza che possiamo avere, che dobbiamo nutrire, è che cambi non tutto, ma quasi tutto. Ecco, che cambi parecchio. Cambi parecchio nella politica. Noi non siamo stati fortunati in questa provincia, almeno questa generazione non è stata fortunata, perché l'Irpinia ha avuto per il passato, è storia, non è un'opinione, è cronaca, ha avuto per il passato una classe dirigente davvero eccezionale. Una classe dirigente che era nata dallo studio, dalla politica sposata come missione, dall'intelligenza delle persone che si erano avventurati in politica e che hanno avuto poi la fortuna politica che credo abbiano anche meritato. Ecco, poi all'improvviso da un certo momento in poi c'è stato il vuoto, manco a dirlo proprio per responsabilità di quella classe dirigente molto illuminata, molto forte, molto intelligente, la quale era probabilmente gelosa, gelosa di tutto ciò che aveva e aveva anche paura, soprattutto paura, direi, di quello che poteva accadere. Paura di lasciare il testimone, paura di dover andare dietro le quinte, così come sarebbe lecito che accadesse, così come accade in tutti i paesi civili del mondo dove la politica non è professione, la politica è mandato e poi ognuno torna a fare il proprio mestiere se un mestiere ce l'ha. Ecco, quella classe dirigente così illuminata ha bloccato ogni forma di rinnovamento. È passato un lungo periodo, 25 anni circa, 20-25 anni e i bravi, i buoni che potevano emergere si sono fatti dietro. E dopo è emersa la classe dirigente che abbiamo oggi, politica, che fatta salvo qualcuno, fatta eccezione di qualcuno, non è proprio questa classe dirigente politica che l'Irpinia merita. Dice Gianluca Festa, può cambiare tutto oppure può cambiare niente. Perché ci sono queste due circostanze molto molto importanti. Le elezioni politiche che possono modificare l'assetto della rappresentanza irpina in Parlamento e le elezioni amministrative del capoluogo che possono, in qualche modo, soprattutto se si fa tesoro degli errori commessi in questi cinque anni, queste elezioni possono ridare alla città capoluogo la speranza di una guida politico-amministrativa adeguata, cioè l'esatto opposto di quello che purtroppo c'è stato in questi cinque anni. Tutto, vedete, tutto, o quasi tutto, dipende dal Partito Democratico. E dipende dal Partito Democratico, naturalmente, ad una condizione. E cioè alla condizione che le prossime elezioni politiche non saranno vinte dal Movimento 5 Stelle, perché se vince Grillo a quel punto il problema non si pone. Classe dirigente in un modo o nell'altro, irpina, non cambieranno le cose assolutamente. Ma se il presupposto, che è un presupposto difficile, ma molto molto verosimile, se il presupposto è che vinga il Partito Democratico, e allora dobbiamo sperare che ci sia un rinnovamento sostanziale della rappresentanza, specialmente della rappresentanza del PD. La nostra rappresentanza parlamentare del Partito Democratico ha dimostrato in questi anni tutta la propria inadeguatezza e sta dimostrando la propria inadeguatezza anche in questo passaggio difficile, in questo passaggio delicato, che è il congresso provinciale. È una classe dirigente politica, quella del PD, a cominciare dalla classe dirigente parlamentare, che probabilmente ha un concetto molto molto miope della politica politica. È una classe dirigente politica, che è una classe dirigente politica, che è una classe dirigente che ha detto delle cose importanti. Ha fatto tesoro, la lezione sembra, almeno a parole, che l'abbia imparata. E ha detto e ha riconosciuto implicitamente, con il garbo dovuto, salvaguardando la propria personalità, naturalmente, ha detto che gli errori sono stati commessi. Io credo che Renzi abbia sintetizzato in una espressione gli errori commessi e soprattutto quello che dovrà essere il PD. Renzi ha detto che l'unica grande coalizione, approfittato del tema delle alleanze, l'unica grande coalizione alla quale egli guarda è una coalizione con i cittadini. Il che significa, guardate bene, non è una mia interpretazione, e nelle cronache anche questo, significa riportare il partito democratico tra la gente o portarlo per la prima volta, perché non mi pare che come PD ci sia stato più di tanto. Tra la gente c'erano i grandi partiti popolari come il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Il PD sarà, perché è ancora troppo giovane, un ragazzino, sono soltanto nove anni, che è figlio di questo matrimonio anche un po' innaturale che sta dando, sta dimostrando qualche limite e l'accessione di alcune persone importanti dell'ex PC passate che hanno costruito il PD. Questa scissione dal PD sta a dimostrarlo. Ebbene, probabilmente è perché è troppo ragazzino, ma a differenza dei genitori della DC e del PC, scegliete voi chi poteva svolgere meglio il ruolo della mamma e chi del padre, a differenza dei genitori questo ragazzino tra la gente non si è mai calato. Renzi se ne è accorto, perché Renzi è politico molto fine, molto intelligente. Se ne è accorto e vuole, vorrebbe fare questo, ma il problema è ci riuscirà a farlo conservando sui territori, come si dice, cioè in periferia quella classe dirigente del PD che fino ad ora non soltanto non è stata tra la gente, almeno la stragrande maggioranza di quella classe dirigente, tra la gente non c'è stata. Ecco, riuscirà a farlo con le persone che sono finite in Parlamento quattro anni fa. Io credo che sia molto difficile. Molto difficile perché non si cambia mentalità all'improvviso. Voglio dire che se questi rappresentanti irpini in Parlamento del PD hanno fino ad oggi agito in un certo modo, cioè hanno fino ad oggi snobbato il rapporto con la gente, non sono stati tra la gente, se non per carpire un po' di consenso quanto serve, ecco, non credo che da adulti riusciranno a cambiare. C'è da augurarsi allora che cambi questa rappresentanza parlamentare, ripeto, soprattutto a quella del PD e c'è, ci deve essere la speranza che sia servita questa lezione dell'amministrazione Foti, devastante, deludente sotto ogni aspetto perché soltanto in questo modo, ecco sì, ci sarà la svolta vera e ci può essere. Vedete, gli elementi che si muovono in questa città, in questa provincia, gli elementi della politica ci sono, ce ne sono tanti, non è vero che sono tutti idioti, tutti inadeguati, idioti un po' pesante, non è vero, non è vero rottamare soprattutto gli incapaci, invece gli incapaci nel PD ci sono rimasti, ecco, basta che ci guardiamo intorno in questa provincia e, insomma, la casistica, la campionatura è molto molto ampia. Ecco, ci sono gli elementi, bisogna sapre scegliere e soprattutto bisognerebbe, ecco, bisognerebbe contestare da parte di chi il PD l'ha votato, lo vota, da parte di chi non è un militante, non è un iscritto, anche perché abbiamo visto che poi questi iscritti per una buona percentuale sono iscritti fantasmi, ecco, ma da parte di chi il PD l'ha votato, vuole continuare a votarlo, ecco, ci sarebbe bisogno di una qualche sortita pubblica, ecco, bisognerebbe far elevare il dibattito su questa storia molto brutta che sta accadendo proprio in questi giorni, in queste settimane e cioè con la caparbia volontà dichiarata finalmente da tutti e quattro i membri del direttorio provinciale di voler fare questo congresso provinciale subito e che debba essere un congresso straordinario, che significa poi fuori dal politichese far votare, far partecipare al congresso soltanto gli iscritti del 2016 che sono esattamente gli stessi, cambia poco, di quelli del 2014. Ora, questi signori ritengono che in tre anni, in ben tre anni, non sia cambiato lo scenario, non siano cambiate le dinamiche, in tre anni non è accaduto ad esempio che il Movimento 5 Stelle abbia conquistato sempre più giovani, fanno finta di non capire, di non vedere che cosa è accaduto in questi tre anni e immaginano che i parametri, i parametri ai quali deve riferirsi un partito, quindi in questo caso i parametri degli iscritti, siano gli stessi di tre anni fa. È una cosa impossibile, in tre anni la politica cambia di moltissimo e c'è bisogno di adeguarsi. Ecco, una cosa molto più semplice, lineare, potrebbe essere invece quella che viene proposta da alcuni settori del Partito Democratico e cioè, cari signori, fermiamoci un attimo, basta con questo congresso straordinario, facciamo un congresso ordinario più in là, nel frattempo, un paio di mesi, non più di tanto, riapriamo il tesseramento o meglio, facciamo tesserare quelli che si vogliono tesserare nel 2017, avremo un partito più fresco, soprattutto molto più inclusivo e da lì, dalle nuove energie, potrà nascere qualcosa di meglio di quello che c'è, senza nulla togliere al diritto di chi già ci sta, degli adulti, del PD, di mantenere le proprie posizioni, di combattere per mantenere le proprie posizioni, chiedendo il consenso. A me sembra che questo debba essere il partito che Renzi ha annunciato. Ecco, opporsi a questa idea del partito aperto, significa, attenzione, bloccare un processo di avvicinamento al PD, che pure c'è da parte di tantissima gente, perché signori, le cose, i nodi, stanno venendo al pettine. L'esperienza grillina di Roma è un'esperienza devastante. Ecco, siamo finiti sul New York Times con una metafora molto brutta, no? Roma sudicia, roba del genere. Ma perché? Perché la Raggi non ha saputo assolutamente gestire il problema dei rifiuti. Si tratta degli stessi grillini che hanno gridato allo scandalo, che hanno alimentato il fuoco di polemiche, polemiche che hanno fatto fare il giro del mondo di una immagine napoletana, campana e, per estensione, tutta italiana, un'Italia coperta dall'immondizia. Ecco, alla prova dei fatti, questi signori hanno dimostrato di non saperci fare. Sono bravi a parlare, ma non a saperci fare. Allora, poiché anche questo è il livello, resta ancora intatta l'ultima grande speranza che è rappresentata proprio dal Partito Democratico. Naturalmente da un Partito Democratico diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora, perché l'idea, il sentimento democratico è largamente diffuso. Democratico nel senso di PD è largamente diffuso nel nostro paese, dalle Alpi, ci sta questo sentimento. Il problema è che questo sentimento non va più deluso. Stiamo tutti un po' nelle mani del PD, nel senso di quello che il PD saprà fare, ed ha ragione Gianluca Festa quando dice che questo anno è molto, molto importante. Deciderà se l'Irpinia cambia oppure se l'Irpinia resterà così com'è. A chi piace che resti così com'è, non può che augurarsi che resti anche in questa classe dirigente politica. A venerdì prossimo.